Nessuna prescrizione alla chiusura dei locali della Movida, ma solo alla vendita di superalcolici e bevande in contenitori potenzialmente pericolosi, lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Gela, domenico messinese, che supera delle regole vetuste. Di concerto con la prefettura e la questura di Caltanissetta, oltre che con imprenditori ed avventori, la nuova ordinanza in vigore già da domani, limite gli orari della musica fino alle ore 2, dalla domenica al giovedì, e fino alle ore 3, il venerdì e il sabato, oltre a date significative come la notte di San Lorenzo, la vigilia del 15 agosto ed il ferragosto. Come anticipato, limitazioni orarie a seconda delle attività commerciali coinvolte tra le ore 22 e le 2, anche per la vendita di superalcolici e dei contenitori in vetro o alluminio delle bevande. L'atto sindacale si allinea alle direttive nazionali in materia di sicurezza e quiete pubblica ed è già stato adottato in altre località balneari, anche per contrastare gli esodi notturni dei giovani nel weekend. I contenuti dell'ordinanza sono delle regole che servono per poter tutelare sia chi va nei locali di Gela, sia chi gestisce locali e sia soprattutto chi vive vicino ai locali. Quindi sono stati posti dei limiti sulle emissioni sonore, sugli orari con cui poterle utilizzare, degli orari sulla vendita dei superalcolici e soprattutto evitare che si possano dare degli oggetti potenzialmente pericolosi. Oltre naturalmente l'obbligo del gestore di garantire il decoro dell'area circostante del suo negozio e di fare la differenziata per poter mantenere tale decoro e rispettando naturalmente le regole e le leggi. Abbiamo fatto e raccolto tutta una serie di note, di suggerimenti che sono arrivati in questi giorni e abbiamo cercato di dare delle risposte, intanto evitando la migrazione notturna di molti gelesi che alle due si spostavano nei paesi vicini e soprattutto dare la possibilità per chi è che vuole rimanere anche tutta la notte a godersi il fresco dell'estate e di potersi comunque rimanere all'interno dei locali. Però è chiaro che questa loro libertà non può inficiare la libertà di altri concittadini quindi c'è l'obbligo per le due di spegnere qualsiasi fonte sonora tranne il fine settimana che si arriva fino alle 3 del mattino.